Tutte le tradizioni raccontano delle grandi saggezze attraverso aneddoti semplicissimi, ma di una praticità incredibile. Proprio nella loro semplicità e nel loro essere dirette, riescono a toccare quelle corde che insegnano, che lasciano un tracciato dentro, lasciano una chiarezza, una praticità che è molto più tangibile a volte di tanti discorsi più complessi. In molte di queste storie, in molti di questi racconti, emerge quella che è la mia passione artistica, quella che è il mio contatto con l'energia creativa, e per questo mi piaceva lanciare un piccolo concorso, e cioè di invitare i lettori a fare una foto creativa con il libro. Le tre foto più creative, più pazze, più particolari, più, non lo so, lo scopriremo insieme, avranno un premio speciale che mi riguarda particolarmente. Grazie.